E di altro informe, Formazione Sociale Gruppo 5 ha iniziato il traiecto del Mariners Cazerno nel inizio dell'anno che è arrivato a un punto importante di una prima fase. In total, l'entrenamento completo ha un'durazione di un anno e 20 anni ho ricevuto un barato e un anno ha un'opportunità per dimostrare la famiglia e amistez con un cispa di chi con l'entrenamento che potrebbero inserire le ultime quattro luni. Porte, a remarcare che è stato il primo gruppo con la prima fase e la prima fase che è iniziato a iniziare con 20 e a terminare con 20 giovani. Durante la differente traiettoria e la differente classe di SvT che ci sono stati, ci sono stati candidati di arrivo a 20 e ci sono stati anche a 32. e il gruppo Aki a tenere oltre, a motivare oltre, ma io non ha un ruolo molto importante. Marina, che è grazie a texera, comandante, e tu le arumelle, che ha aiutato a noi a fare un lavoro molto grande. e Jesse, Omar, non ci sono stati di cooperare, ma soprattutto non è graduato nel mese. Ci sono stati sostenibili, ci sono stati preparati, ma alla fine c'è una determinazione per continuare e per non perdere, è così, con l'Awe non è un graduato di SvT per bene, amico. Un viaggio di SvT per bene è una cosa molto facile, mi sono contento che noi abbiamo 20 giovani a finalizzare la prima parte della formazione sociale, ora che è la prima parte della formazione sociale, ora che è il nostro finale, l'Awe non è soltanto, un po' più difficile per i giovani a mantenere, è parte di insegnanza, quindi, maggiormente, con l'alunità non è come la scuola, quindi, il lavoro non mi sono, quindi, abbiamo 8 anni per andare, anche 8 anni, anche Le SvT per sovane, le SvT per andare 4, le SvT per la qualsiasi cosa, una parte della formazione di una formazione, quindi, anche la formazione delle cose sono le più importanti, quindi, anche se la formazione delle cose con l'Akina, oggi per l'Akina nel settore, poi apprezzato le significhe del certificato. Fa bene, esse presidente, il progetto di formazione sociale è un'opera speciale, ma si è la preoccupazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.